invitato ma lo zio domani è stato un mito perché c'è gentile gentilissimo si hanno licenziato per favore vieni qua tranquilla inizio ha lavorato su se hai fatto il ristorante si mangia bene si mangia bene si 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 cioè resta contenta la gente no o resta contenta o non esce proprio dal locale sempre così è stato rimane contenta la gente rimane contento lui vabbè però sai è gente all'antica vecchi valori vecchi valori stiamo aspettando questi due ragazzi come si chiamano a proposito come riccardo e pierpaolo riccardo con l'acca con l'acca finale come li riconosciamo chi è riccardo riccardo è quello più alto sono due alti uno c'è i capelli neri uno c'è i capelli neri è riccardo 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 con i capelli neri e per paolo io penso a sta cosa sono tutti depressi ma mi chiede sui depressi gli gira male dice che vabbè ci dico che la vediamo la trasmissione no si bravi bravi voi ingoraggiate no non possiamo dire una cosa che non è giusto io si vede in faccia quando dico una fesseria ragazzi no ma è chiaro ci giravo io ci giravo tu li segui sempre però non però è che poi poi lo so cioè poi loro sono convinti e io stanno facendo vissacchino vabbè vabbè schiena vabbè il loro piccolo coraggio tanto le domande che vi fanno sono sempre le solite tre eh praticamente di che parla il film eh sceneggiatura regia a semane si è il cast segnate le segnate le vabbè ce le dicono loro non è che ci ha bisogno tanto quindi eh di che parla il film regia a semane e il cast di che parla il film regia a semane e il cast ok in questo le sappiamo senti invece tu oh ci dobbiamo salire dallo zio tony eh pronto? salvo? oh ragazzi ma dove sei? ma scusami ma stiamo aspettando si chiara il piccone siamo qua fuori davanti al tony serestero da mezz'ora hai detto che arrivavano ma quali qua sono? ma come sono lì? eh certo dai ma non ci chiamo vabbè arriviamo ciao che è successo? stanno venendo? stanno venendo stanno venendo e perché che si chiamavano? dice che stavano aspettando fuori vabbè incoglioniti l'ho detto sono... mamma mia ci hanno riapresa sta cosa di proprio di essere tristi e mi stanno facendo indistire pure a me poi lo sapete infatti il posto fastidio ragazzi ho un piacere vedervi che non ve lo dico come ciao piacervi un piacere nell'incontrarvi che non ve lo dico perché con Valentino la vediamo sempre alla trasmissione no poi è bella questa cosa che fate finta di essere in diretta che invece poi è registrata è troppo bella questa cosa eh in che senso che senso c'è che noi lo vediamo quando che la vediamo tipo che siamo in diretta adesso è una gag che facciamo tutte le volte che è bellissima che dice bellissimo sigla sigla no dai no dai no ci tengo ci tengo oh lui come si segue io qualche puntata l'aperdo ma lui le vede tutte se li volete fare... Allora, fatevi qualche domanda sulle puntate passate, lui si sa dire... No, 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 perché pubblicità. Tutti, chi c'è stato... No, chi c'è pubblicità alla trasmissione... Qual è l'ospite che ti è piaciuto di più? Per esempio, qual è l'ospite che... Potrei dispiacere qualcun altro, non... Vabbè, allora, domandai un'altra cosa, lui tutto le ha seguite. Per esempio, questo, qual è il film che voi avete parlato... Un film di cui abbiamo parlato che hai preferito... Sicuramente un film che era uscito, questa è una cosa... Era uscito un film, e poi mi ricordo proprio io, infatti, dicevo, ma questi, ma come mai? Ma ci seguono, da che grande! E poi ti dico che lui... Io mi dispiace che poi si possa prendere un'altra per sicurezza. No, te la faccio io, te la faccio io, vai. A me mi dispiace che qualche volta, qualche puntata l'ho persa, perché mi piace essere sincero e dire le cose. C'ho gli impegni, c'ho gli impegni. Lui però... Però c'è la replica, eh? Sì, lo so, però io preferisco quella proprio in diretta. Però perché si perde il gusto. Ci vogliamo dedicare anche ai nostri ospiti che ci stanno guardando in questo volare. I telespettatori. Buon pomeriggio a tutti quanti, ragazzi. In diretta dal Tony's restaurant, da New York, Ficarra e Picone con la matassa che esce oggi. Qui, l'hanno portata qui. Da nostro zio, da nostro zio. L'abbiamo portata a fare... Eh, la problematica, ma New York che ci sta da fare qui? C'abbiamo lo zio qua. O zio Tony. Zio Tony. Ma davvero siete parenti? C'è? Ma quello zio Tony... Siete parenti del signor Tony? È fratello del cugino della madre del cognato di suo padre. Che sarebbe la zia... Ah, zio, razza ciccina quella che c'ha il bar di fronte, no? Ma quindi voi siete parenti? No, ma noi che c'è lo del bar. Cioè, poi il bar se l'è chiuso, poi si è aperto una salumeria. Sì, quella razza... Chi è che c'ha all'angolo con la... Con la comacia? Con la mia Nazario Sauro. Eh, sì. Con la mia Nazario Sauro. Non mettermi in bocca parole che non ho detto. No, assolutamente, lo dicevo per voi. Cioè, addomparvisamente. Sì, puoi aprire una finestra che non c'è. Allora, parliamo subito di una tassa, un po' di domande così... Sì. Posso fare il bravo conduttore? Il bravo conduttore. E noi facciamo i bravi intervistati. 349 14 096 16 se volete scrivere sms a Ficarra Piccone che sono qui con noi oppure siamo stati uniti chiocciolacaminsum.it se volete scrivere mail. Che noi poi daremo a loro e loro le bruceranno. Cioè, questa è la cosa che si fa di solito senza leggerle. Un ritmo proprio. Un ritmo. Fattiamo subito con le domande. Le domande. Prima domanda, non so, facciamo una cosa diversa. Di che parla il film? Di che parla il film? Il cast c'è innanzitutto. Vino Caruso, Anna Safrancic, Claudio Gioè. Come il cast? Questa è la nostra terza domanda. La facciamo per terza. Cosa? Questa domanda del cast. C'eravamo preparati questa domanda? Ah, è che io l'ho scelto molto, l'avete iniziato. Ah, è che la prima... Cioè, facciamo sempre le stesse cose. No, è lui. Cioè, questa ci siamo messi in mezz'ora prima. Perché non ti fai affari tuoi che quelli stanno facendo le domande e tu rispondi con cose che non c'entrano niente? Ma adesso va a gettare in crisi. Hai risposto tu hai risposto. Io? Ma quando mi avete sentito parlare a me fino a ora? No. E allora, ma perché non ti fai gli affari tuoi tu? Li seguo, li seguo, faccio io, faccio io. Ma parla fino a crei guai. Io non li ho mai... Sai buono, falli parlare. Quindi dicevamo di che parla il film? Di che parla la matassa. Lo dice lui. La matassa parla... Complimenti veramente a tutti e due. La matassa parla di una lite epocale nella nostra famiglia. Noi siamo due cugini in questo film. I nostri genitori hanno litigato o sono litigati? Hanno litigato perché è passato. Sono litigati a presenza. Puoi chiedere allo ziotoni e poi lo sa quello. Non lo direi che puoi dire ziotoni sempre quando vuoi. Anzi vi manda a salutare lo ziotone. Chi manda a salutare? A tutti e due. Saluteci con piede. E dì io di venire a mangiare qualche volta da me che rimarranno contenti. Abbiamo un attimo un contenzioso economico. Ma è tutto a posto. Ma comunque magari ne parliamo poi del privato. Sì ha detto proprio voi sottoterra state benissimo. E' molto contento di avervi sottoterra. Ci ha detto forse. Ecco. E insomma detto questo insomma la matassa...